Per noi un patrimonio è una cosa viva, va curato tutti i giorni, creando valore per il domani e proteggendolo nel tempo. Grazie a tutti. 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 La comunità subito dovette fungere da bambino e padre di famiglia, in quanto l'altro fratello che aveva morì sempre subito dopo. Cosa faceva questo ragazzo? Aveva un bambino addirittura. Si divertiva inizialmente e si lungoteva a raccogliere la sabbia e a fare dei pupazzetti che poi andava a vendere a Piazza Navona. Con il modesto ricamato lo portava la mamma e sopravviveva la famiglia durante la guerra. Poi a 18 anni circa si arrolò in marina per trovare un lavoro e lì c'è un'altra storia che non racconto perché sarebbe troppo lunga e ci vorremmo un'altra trasmissione. Aggiungo solamente che su Robazza, sull'uomo Robazza più che artista o dopo artista, si doveva fare un film. Avevo già letto tutta la sceneggiatura ma questo film per motivi diversi non è mai uscito perché ha avuto una vita molto particolare. Dopo essere arrolato in marina andò in Olanda, fece il corso di gemmologo e quindi entrò addirittura nei laboratori dove si selezionano i diamanti. Da lì ritornò a Roma e solamente a una tarda età si mise ufficialmente a fare l'artista. Fece la prima mostra e io lì l'ho conosciuto in quell'occasione. Ho raccolto una fotografia in bianco e nero dove io avevo i capelli neri e non bianchi come adesso. Quindi oltre 40 anni fa. Fu una prima mostra a Roma, non mi ricordo il nome, era la Galleria Charriot, dove casualmente o fortunatamente, dopo due giorni dall'inaugurazione della mostra, artista sconosciuto all'epoca, vendette tutto quello che c'era in mostra. A Brocco, a Stato, ma sono una nobile persona, quindi chiese il prezzo e si portò via a casa. E da quel momento iniziai io personalmente un percorso di fornitore e di esecutore delle sue opere. Difatti in questa monografia che porto con me, in cui c'è un Robazza, un libro piuttosto importante, era fatto negli anni 70-80, c'è una breve, una breve, piuttosto massiva. Un'articolata storia. Anzi, questo lo dedico addirittura alla mia signora che ci tiene molto a mostrarlo, perché come vedi è stato alluvionato questo libro, non se ne trovano più. E qui lo faccio vedere perché mi raccomando l'altra artista, che è Goenz, che tiene particolarmente questo libro, oggi me l'ha prestato. Ringraziamo per la gentile concessione. Perfetto. Allora, dicevo con Robazza, la sua capacità artistica è espressa maggiormente nella scultura. È anche pittore, però bisogna dire che nella pittura è opinabile se piace o non piace, è una pittura forte. Mentre per la scultura è molto, molto importante. È universalmente riconosciuto come un genio, diciamo così. Un genio, quindi ha una facilità di lavoro. Per un certo periodo è stato negli Stati Uniti, dove ha fatto lezioni di scultura qui in Italia, a Giuliano Gemma, che tutti conoscono come attore, ma pochi conoscono che era anche scultore. Allievo di Robazza, amico, intimo e allievo. Tutti non sanno, per esempio, che Anthony Quinn, altro importante artista cinematografico, era un allievo di Robazza. In particolare quando Robazza si trasferì a New York, dove gli misero a disposizione una galleria e dove produceva tante cose importanti. Tant'è che una delle sue opere si trova in casa bianca, altra opera si trova all'ONU. Cioè sono sparpagliate un po' in tutto il territorio, dopo magari diremo dove e quanto. Esatto, io la riporto infatti a Dante e all'Inferno. Allora, quest'opera era una sua vecchia idea, di cui personalmente mi aveva coinvolto, perché voleva far sì che interpretasse questa grande, la Divina Commedia, ma perché voleva portarla addirittura nei campi sportivi. dicendo, la gente va nel campo sportivo a vedere una partita. Io desidero che fanno un'opera unica, grande, in modo che tutti possano accedere a vederla in un campo sportivo. Sembrava una cosa... Sembrava una sfida. Tieni presente che l'unico artista, un unico scultore che si era appena cimentato tra l'Ottocento e l'Ottocento a interpretare l'Inferno era Rodin. Però dopo un anno alzò le mani e l'opera non è stata mai realizzata. Invece Robazza... In maniera caparbia, impiegò cinque anni a realizzarla. Cosa è oggi l'Inferno? Sono diciotto pannelli, di dimensione due metri per due metri e mezzo, in marmoresina, quindi volume E, che sviluppano una superficie di 90 metri quadrati, cioè facendo una somma di pannelli di 90 metri quadrati. Bene, lui ha riassunto, alla sua modo, la sua interpretazione, tutte le diverse cantiche, tutte le 33 cantiche, e i personaggi, inserendoli in questi, in ognuno, magari in un pannello si individuano tre cantiche in uno stesso pannello, facendo addirittura l'interpretazione anche di Dante, di Virgilio, questo è il primo pannello, ma non tanto come figura, ma cercando a carpire anche il senso, per esempio si vede nel primo pannello il timore di Dante, vedendolo da vicino, ovviamente, per chi lo può, si vede che Dante era preoccupato di entrare assieme a Virgilio, nello stesso pannello, a destra, si vede addirittura Virgilio, che con una propria espressione assicura Dante, per dire, entra con me, non avere paura, quindi arrivare a questa formula di interpretazione, non tanto della figura, ma di quello che c'era nella figura, non è cosa facile, quindi lui proprio leggeva i passi della Divina Commedia e riusciva a interpretarli alla sua maniera. Per noi un patrimonio è una cosa viva, va curato tutti i giorni, creando valore per il domani e proteggendolo nel tempo. Quest'opera, in questo momento, dove si trova e quando è stata inaugurata? Quest'opera si trova attualmente al museo che hanno dedicato a Robazza, a Roccapriora, il paese dei Colli Romani, dove risiedeva d'estate, aveva una bella sua residenza, dove lavorava, dove ha fatto, addirittura, manualmente, i diversi pannelli, perché essendo di grosse dimensioni non poteva fare... Certo, aveva bisogno anche di ampi spazi, questo la fece quando ritornò dall'America e fu inaugurata nel 95 a Firenze. La inaugurò il giovane, allora era più giovane, Vittorio Sgarbi. Un'opera che, professore, ha riscosso grandissimo successo non solo in Italia, ma anche oltrooceano e anche in Asia. Sì, perché in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, Quindi precisamente dieci anni fa? Esattamente. Con Roma capitale e l'opera fu portata a mezzo, prima a mezzo terra, fu tutta una grossa avventura, poi in nave, in Cina. E lì è rimasta per due anni, portandosi in diverse città mega grandi, in musei della Cina, dove qualcuno che può essere interessato a vedere può andare sul sito www.robazza.it e vede anche dei video girati in Cina, addirittura musiche fatte appositamente da un maestro e può godere anche se a posteriori. Quindi in qualche modo il sommo poeta tradotto in scultura, in particolare nell'opera dell'Inferno della Divina Commedia, è arrivato oltreoceano, è arrivata in Asia e oltreoceano, perché poi anche in America ha riscosso un grandissimo successo. Allora, vediamo il percorso, viene inaugurato a Firenze, dopo qualche anno la sovrintendenza ai beni culturali a Roma dà il permesso di essere esposta davanti alle ex prigioni del papato a Castel Sant'Angelo all'esterno, anche questo è visibile con documentazione, quindi si immagini che vennero tutte messe in riga questi 18 pannelli. Immaginiamo lo spettacolo sul Lungotevere con alle spalle Castel Sant'Angelo e quest'opera martodontica del nostro dante Robazza. Prima di andare in Cina, poi in Cina è rimasta per due anni come dicevo prima, ritornata dalla Cina, fu posizionata per un anno, doveva essere per un periodo più breve, però di fatto arrivò fino a un anno a Santa Croce, a Firenze. Lì c'erano addirittura una file di persone, di turisti, di curiosi, di interessati, di code. Io mi ricordo che una volta passai da Firenze per andarla a vedere direttamente montata non sono riuscito a entrare perché c'era una coda e quindi sono rimasto all'esterno a vedere solamente la coda di persone che facevano, pagavano il biglietto all'epoca. Finito a Firenze sbarcò a Cuneo, ma sbarcò nel senso che si doveva vedere dove poterla collocare perché c'erano alcune regioni che lo volevano avere, però siccome fare un trasferimento di questo... Si trattava di un'opera decisamente impegnativa anche da spostare. E quindi andò attraverso amicizie comuni in parcheggio a Cuneo, dove casualmente la vide Michele Ferrero che risiedeva a Monte Carlo se n'era talmente innamorata di questa grande opera che voleva portarla di intorno al mondo dove la Ferrero è presente. Purtroppo dopo 15 giorni da questo incontro Michele Ferrero venne a mancare e quindi rimase lì in parcheggio in attesa di trasferirla a chi forse in Lucania non si sapeva dove. E invece personalmente trovandomi a Sorrento andai a visitare la Fondazione Sorrento così per curiosità visto che li conoscevo in quanto ogni anno la Fondazione Sorrento promuove Sorrento non ha bisogno di promozione perché... Chiaro. Però c'è questa presidenza che ogni anno fa organizzare delle mostre importanti storiche e quindi andando a parlare con il direttore disse caro direttore cosa fate quest'anno? e mi disse noi facciamo 900 italiani avevano già fatto Picasso avevano già fatto Dadì e lei suggerì Robazza e no alla domanda in napoletana e vu che tenete io risponde ma io c'ho una cosetta c'è una disponibilità di... Edmisi lasciai un piccolo catalogo sul media ci salutammo e arrivederci sappiamo comunque adesso professore che l'opera è visibile sul sito questo è sicuro www.robazza.it c'è non solo tante opere di Robazza c'è proprio un settore che è dedicato all'inferno all'inferno quindi ci sono molti video molte fotografie molte presentazioni quindi l'inviso al pubblico a casa naturalmente in questo momento in cui i musei sono chiusi o comunque anche il museo proprio dedicato a Robazza è chiuso è quello di anche celebrare Dante attraverso gli artisti che in qualche modo lo hanno raccontato a modo loro e sicuramente Robazza attraverso la scultura ha reso omaggio al sommo poeta e noi non potevamo far mancare anche un piccolo contributo con Cerco Arte di quello che è un anno così importante per tutta la cultura italiana che poi come abbiamo ascoltato e come abbiamo visto ha sicuramente influenzato poi tantissime altre culture professore siamo giunti al termine di questa puntata ci credo si è andata di corsa è come se avessimo vissuto tutti i gironi dell'inferno così in fretta in un quarto d'ora quindi naturalmente la ringrazio per averci spiegato e per averci illustrato quest'opera così importante che con piacere andremo indubbiamente a vedere per il momento sul sito speriamo di poterla vedere quanto prima di persona prima che chissà magari dall'estero arrivino a portarci via anche questo che comunque è un tesoro prezioso per la nostra arte un patrimonio importante assolutamente quindi l'appuntamento con il pubblico a casa è come sempre alla prossima settimana sempre alla stessa ora sul canale 11 di tvrs con Cerco Arte a tutti una buona serata a tutti e l'appuntamento Per noi un patrimonio è una cosa viva, va curato tutti i giorni, creando valore per il domani e proteggendolo nel tempo. Grazie a tutti.